Noi abbiamo un anno nel quale dobbiamo diventare pescatori di voti, nel senso che qua in Puglia l'ultima cosa che bisogna fare è litigare tra di noi. Questo dunque è l'intento del vicepresidente Vicario dei senatori del PDL Gaetano Quagliariello a Bari per uno scambio con rappresentanti e sostenitori della Fondazione Magna Carta. Con lui anche il sottosegretario all'interno, Alfredo Mantovano, nel 2011 ha detto Mantovano bisogna capire quale lavoro dobbiamo fare in Puglia. Se si dovesse andare alle elezioni daremmo priorità alla ricerca dei voti, altrimenti anche in questa regione faremo un lavoro teso al massimo coinvolgimento di tutte le potenzialità che il partito ha sul territorio. Entrambi concordano sulla necessità di dover recuperare non solo gli elettori ma anche la classe dirigente del partito perché il PDL è un partito aperto e per questo deve andare oltre e confrontarsi con il fenomeno vendola. Il PDL ha sottolineato Quagliariello deve vincere dove non ha vinto. È necessario che l'azione sia fatta all'esterno, non all'interno, pestandoci piedi o creando delle situazioni di... Poi dopo di che chi ha più filo tesserà e poi si raccoglieranno i risultati. In Puglia è importantissimo capire come va la ricomposizione nazionale anche a sinistra perché come niente il terzo polo potrebbe diventare quello di vendola. E ricordando la votazione in Senato sulla fiducia al governo, Quagliariello commenta l'astensione della senatrice di IOSUD Adriana Polibortone. La senatrice Polibortone ha preso una posizione autonoma anche rispetto al terzo polo perché non ha partecipato al voto e al Senato non partecipare al voto vuol dire veramente avere equidistanza, laddove astenersi, come voi sapete, per quanto ha un valore politico però significa comunque voto contrario. E l'ha fatto anche con un discorso e con delle dichiarazioni che non possono, secondo me, lasciarci insensibili e che devono avere una risposta politica.